Vai! In cima al penultimo tratto siamo arrivati. Ora andiamo in punta a fare un super video. Da sotto c'è il dono. Super posto. Qua c'è l'ultimo dente che dobbiamo fare per arrivare alla vetta, bella vetta in alto a fine ferrata. Cielo stupendo. Vediamo la parte di qui. Eh sì. Oh cap. Oh eh. Varselò for lite. Grazie a tutti